Trafficare il talento. 25 ottobre 1977. Figli di Letti, la pace sia con voi. Sono il vostro maestro desideroso distruirvi, di confortarvi, di darvi forza. Sono sempre qui con voi come fornace d'amore, perché voglio che questo fuoco, che io vi dono, possa incendiare il mondo. Il vostro mondo è piccolo. È vero. Le vostre conoscenze sono limitate. Le vostre possibilità sono poche. Ma il mio fuoco ha una potenza divina e come il sole, pur essendo uno solo, può illuminare i due emisferi. E tutti gli uomini possono godere della sua luce e del suo calore che rende feconda la vita. Così il mio fuoco può, anche a mezzo vostro, irradiarsi sul mondo delle anime e farle vibrare e vivere. Divenendo luce e calore per tutti. Figli, spesso vi parlai del regno dei cieli. Vi dissi un giorno che esso è simile al granello di senape che l'agricoltore seminò nel suo campo. Esso diventò in breve albero grande, tanto che alla sua ombra molti uccelli trovavano riparo. La Chiesa fu ed è questo granello di senape che gli apostoli e i suoi successori diffusero e diffondono in tutto il mondo. Tutti sono chiamati a cercare alla sua ombra quella vita, quella forza e quel riposo che Dio per mezzo suo vuole dare. Eppure voi sapete quanti milioni di uomini rifiutano il dono di Dio. Vi sono anche coloro che hanno accettato l'invito e poi non hanno saputo godere di quell'ombra di protezione che la Chiesa poteva dare e come uccelli in plumi, che vogliono cimentarsi nei primi voli e cadono, hanno lasciato la Chiesa per formarne una loro, secondo il proprio criterio. Ma vi sono anche coloro che non conoscono questo albero meraviglioso, che è come l'albero della vita. Dio non abbandona nessuno, ma tutti chiama nella sua Chiesa perché è essa stessa regno di Dio, che prepara i fedeli sulla terra per introdurli nella gloria del cielo. Voi dovete collaborare all'opera dell'agricoltore. Io sono l'agricoltore, e tutto ciò che voi fate per far crescere quell'albero, che io stesso ho piantato, viene da me benedetto e ricompensato. Ho detto ancora, nella mia vita mortale, che il Regno dei Cieli è come il lievito che una donna mette in quattro staia di farina, per farla fermentare ed ottenerne del buon pane. Voglio dirvi che gli appartenenti a questa scuola devono essere veramente lievito e del migliore. Vorrei che ciascuno di voi si rendesse conto delle necessità di vivificare l'ambiente in cui vive. Quando il rispetto umano o preoccupazioni troppo terrene vi fanno desistere dal fare il bene che il Signore vuole da voi, voi cessate di essere lievito e nella quiete certamente non producete frutti di bene. Smuovere le acque, perché non imputridiscano, è un'azione utile e vantaggiosa. Non solo per la salute fisica di una persona, ma anche per quella di molti che di quell'acqua possono servirsi. Scuotere quel torpore in cui molti cadono è un dovere. Voi dovete essere lo strumento. Riempiti di quel fuoco divino, di cui io sono la sorgente, potete richiamare altri ad esercitare quella carità che è fuoco. Figli, non vi sono che pochi luoghi della terra dove non sia stato ancora predicato il Vangelo, ma purtroppo molti, che l'hanno ricevuto per primi, non lo praticano o lo hanno dimenticato. Ecco perché vi posso dire che, a chi non traffica il talento ricevuto, sarà tolto anche quel talento e sarà dato a chi meglio corrisponde e ha più buona volontà. Voi siete i miei diletti, coloro che vogliono condurre una vita buona per farmi piacere. Ebbene, vi dico. Non rallentate la vostra corsa. Riempitevi di sempre nuove energie, di nuovo entusiasmo e richiamate accanto al mio cuore quante più anime potete. Vi sarà chi viene per farvi piacere, per cortesia, per interesse o per qualsiasi altro motivo. Non importa. Penso io a rettificare le intenzioni ed agire sui pensieri e sugli affetti di tutti. Siate lievito. Siate come molle scattanti. Se l'età, la salute, la debolezza, l'incapacità vi trattengono. Lasciate che i vostri desideri corrano come cavallini sbrigliati. Ai desideri unite l'amore ed io mi servirò di essi per operare miracoli. Credete voi nella sapienza di Dio? Io sono la sapienza incarnata. Lasciatevi guidare da me. Vedrete fiorire la vostra famiglia e tutto ciò che in essa potrà accadere sarà per il trionfo del regno di Dio.